Adesso ho scatenato, ci vado sdraiato! Attenzione si droga questo eh! Non vorrei dire! Che scemo! Pirla c'è il macchina! Si ferma e adesso c'è l'esultazione! Adesso vuole salire! In piedi, sdraiato! Ma io sei scemo! No no, vai in piedi! Sta continuando sta cazzo di puntata! Che è la seconda! E ha avuto un'esperienza... No!